buongiorno a tutti oggi voglio presentarvi la nuova macchina di caffè del caravaggio per casa e piccoli uffici una macchina dalle dimensioni compatte pratica e semplice nel suo utilizzo ma con un'estrazione del caffè professionale abbiamo il pulsante di accensione sul lato 102 pulsanti per l'estrazione del caffè corto o caffè lungo programmabili a seconda dei vostri gusti e possiamo inoltre programmare la temperatura di estrazione del caffè la macchina utilizza non capsule di plastica o alluminio ma seguendo la filosofia di caffè del caravaggio cialde filtro carta ecologiche compostabili che possono essere smaltite nell'umido dopo il loro utilizzo le cialde semplicemente si solleva questa leva inseriamo la cialda con la parte più spessa rivolta verso l'esterno la lasciamo cadere nel vano chiudiamo premiamo il pulsante di estrazione e il gioco è fatto buon caffè a tutti grazie a tutti grazie a tutti